Grande fratello VIP, Giorgio eliminato, in Antonella, Nikita, Alberto e Davide. Giorgio Ciupilan è stato eliminato nella puntata di lunedì 30 maggio 2023 del Grande fratello VIP. Il concorrente ha perso il televoto contro Nikita Pelizzone e Oriana Marzoli, prima di abbandonare la casa ha raccontato della sua lotta contro l'alcol essendo oggi un giorno importante. Il 30 gennaio 2022, esattamente un anno fa, decideva di smettere di bere. Nel corso della diretta Signorini ha parlato del rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Quest'ultimo ha poi incontrato il padre nel giardino con un bagaglio di consigli. Giorgio Ciupilan ha perso al televoto contro Nikita Pelizzone e Oriana Marzoli, quest'ultima ha conquistato il 40% di voti. L'influencer si è salvata con il 38% di voti. Solo il 22% dei telespettatori ha votato per il concorrente. Costretto stasera ad abbandonare il reality. Il pubblico ha scelto gli immuni della serata, Sara, Onestini, Tavassi, Daniele e Oriana. Sonia Bruganelli ha scelto Attilio Romita per l'immunità, Orietta Berti invece e Edoardo Donnamaria. Passati alle nominate Onpalesi, i VIP hanno fatto le loro scelte. Alberto ha nominato Antonella. Davide ha fatto il nome di Jaele, Antonino ha nominato Nikita, Nicolincurvaia invece Antonella. Antonella ha nominato Nicolmurgia, Andrea ha fatto il nome di Nikita, Jaele quello di Davide. Nikita ha nominato Alberto, anche Milena Antonella. Nicolmurgia ha ricambiato la nominazione ed ha fatto il nome di Antonella. Edoardo Tavassi ha dato inizio alle nominate Onsegrite facendo il nome di Nikita. Oriana Marzoli ha nominato Davide, Daniele invece Alberto. Luca Onestini ha fatto il nome di Nikita. Sara Altobello invece quello di Andrea. Attilio Romita ha nominato Nicolincurvaia, Edoardo Donnamaria e infine Antonino. I concorrenti nominati Onche rischieranno dunque l'eliminazione nella prossima puntata sono, Antonella, Nikita, Davide e Alberto. Nella puntata del GF VIP questa sera Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno affrontato la crisi della loro storia d'amore. Giorgio Ciupilan prima di abbandonare la casa di Cinecittà ha parlato della sua lotta contro l'alcolismo. Poi Daniele e l'ex volto di Forum hanno avuto modo di incontrare e salutare i loro padri. Nel corso della serata Luca Onestini ha parlato della storia d'amore con Ivana Mrazova che nella prossima puntata entrerà nella casa del GF VIP come concorrente ospite. Nel corso della storia di Cinecittà ha parlato della storia d'amore. Nel corso della storia di Cinecittà ha parlato della storia d'amore.